Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo a Bari, esattamente in zona Murat, in via Beatelia di San Clemente, e vi proponiamo in un signorile stabile d'epoca un comodo appartamento di 117 metri quadri, posto al piano rialzato, così composto. Entrando troviamo un ampio ingresso ed un accogliente soggiorno canzo. A sinistra una comoda camera matrimoniale, con volte di 5 metri, che affaccia sull'esterno. Una cameretta, ancora una cucina e un bagno padronale. L'appartamento è in buono stato, con parquet in tutta la casa, riscaldamento autonomo e condizionatori. Perfetto come abitazione principale, ma anche ottimo come investimento. Non lasciarti sfuggire questa eccezionale opportunità di possedere un appartamento con charme e comfort in una delle zone piambite e servite nella zona murattiana. Ciao, alla prossima!